Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non ci vediamo con una trailer reaction da un po' di tempo e oggi torniamo con questo trailer importantissimo, ovvero quello di Winnie the Pooh, Blood and Honey. Il film horror su Winnie the Pooh. Già, e se non sapete di cosa io stia parlando in questo momento, vi invito a guardare un video che ho fatto uscire più o meno tre mesi fa, lo trovate qui nelle schede o anche nel primo commento, o in un commento lo trovate comunque, e fin dall'annuncio è probabilmente una delle cose che attendo di più. E non sto scherzando. Gente disgustata, lo potete vedere anche nei commenti, oh mi hanno rovinato Winnie the Pooh, oh la mia infanzia, ora i bambini di oggi conosceranno questo Winnie the Pooh, ma quando mai? Oltre a guardare questo e l'altro video, vi consiglio di leggere i commenti perché c'è da sbellicarsi. Tutta la gente è stranita, c'è chi già odia il progetto senza averlo visto, io invece sono stracurioso. Ed ero altrettanto curioso di vedere questo trailer che finalmente è arrivato. Finora è stato rilasciato solamente il primo poster, che è questo che state vedendo sullo schermo, e finalmente ecco il trailer. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo a tema nerd dove trovate i design che state vedendo adesso sullo schermo, sotto forma di tantissimi prodotti, t-shirt, felpe, poster e persino cover. Inoltre a quanto pare dobbiamo festeggiare perché è il diciassettesimo compleanno del sito ed è per questo che ad ogni ordine, fino ad esaurimento scorte, troverete all'interno del pacco che vi arriva direttamente a casa, un Gratta e Vinci con premio assicurato. Ci sono più di 5.000 biglietti e 10 di questi hanno il premio più importante, ovvero una t-shirt gratis ogni settimana per un anno. Ho detto 10 ma in realtà al momento sono 9 perché uno è già stato trovato. Il mio codice ElPensiero4 è sempre compatibile con tutte le promo del sito, anche il Gratta e Vinci. Il mio codice vi permetterà di avere sempre un paio di calze gratis a scelta e direi di approfittarne perché spero abbiate letto tutti i premi che sono contenuti in ogni pacco, in ogni Gratta e Vinci, tutti vincenti, ripeto. Lo dirò fino allo sfinimento, Pampling lo trovate in descrizione. Se userete il codice supporterete il canale e per questo vi ringrazio. Ma adesso direi di partire con la reaction a questo nuovo trailer. Questo forse è Christopher Robin. Al momento per essere il film che è molto indipendente, ne ho già parlato nell'altro video, sembra interessante, ok? Ci sono alcune cose interessanti, soprattutto la fotografia, come è realizzato stilisticamente. Horror standard è nulla di così grande, però essendo questo tipo di film assolutamente già mi incuriosisce di più. Eccolo. Ma se la sta mangiando? Quindi mangeranno le vittime? Ok. Potrebbe anche starci. Anche solo per separarlo da Jason di venerdì 13, perché l'associazione diciamo che è abbastanza facile. Cambiata totalmente la fotografia, ok. Allora, ci sono momenti in cui sembra un horror standard, ok? Anche accettabile, poi dipende da come verrà presentato in generale, ma ci sono altri momenti soprattutto per la fotografia, per esempio questa scena che state vedendo in questo momento che mi ricorda in pratica un video di YouTube dei Pantellas, dei Juggal. Vabbè, i Juggal forse hanno anche più qualità. Non capisco questo sbalzo di qualità da una scena e l'altra, però vabbè, continuiamo. Penso che non vedremo mai realmente Winnie Pooh e Pimpy in volto. Penso non si muoveranno mai a livello espressivo, perché sono delle maschere, ovviamente, e non credo che abbiano avuto quello sbattico, almeno il budget, di far muovere queste maschere in CGI o in qualche altro modo. Quindi, sì, saranno semplicemente due uomini corpulenti che indossano delle maschere, quando in realtà nel film dovrebbero essere effettivamente o dei peluche se vogliono rispettare la storia di Winnie Pooh, oppure degli animali, un vero orso e un maiale, con le dovute differenze naturalmente dagli animali reali. Già non sto sopportando più Christopher Robin. Prima di vedere il film già non lo sopporto più. Va bene, continuiamo. Mi pare che si sia mosso. Ok, quindi, come non detto, in teoria si muove. Va bene. Molto meglio. Animazione. Bladenoni letteralmente non è solo un gioco di parole, ok. Allora, ragazzi, questo film sarà probabilmente un successo. Non sappiamo quando arriverà, ma sarà un successo. Non so se nemmeno arriverà in Italia, perché il trailer non è arrivato in italiano e non è un film, appunto, non è un blockbuster, non è un film importante da far arrivare in tutto il mondo e quindi probabilmente arriverà solamente in America e in qualche altro paese. Io spero di vederlo anche qui in Italia, magari in digitale, in qualche modo. Sicuramente al cinema non lo rilasciano, un film del genere, però secondo me sarà davvero un successo. Non tanto perché sarà il film della vita, il film più bello mai fatto, ma proprio perché c'è la licenza, chiamiamola così, Winnie the Pooh, associata a horror. Ed è una cosa che, sia nel bene che nel male, attira persone. Ho già fatto questo discorso nell'altro video, per questo vi invito a guardarlo, perché lì c'è davvero un discorso più incentrato su questa tematica, su questo film e su quello che porterà. Io davvero vorrei essere nei panni dei produttori di questo film, che sono di una casa che non ho mai sentito nominare, ovviamente, né quello che distribuisce il film e nemmeno la casa di produzione, perché anche se si sono già beccati prima dell'uscita del film tanti insulti e anche alcune minacce di morte, soprattutto minacce di morte anche nei commenti dei miei video, del mio video, un video fatto su questo film, nonostante questo, lo ripeto, troveranno probabilmente il successo. Non sappiamo quando arriverà il film, qui c'è scritto 2022, non so se si riferisce all'uscita del trailer nel 2022, ma penso arriverà quest'anno, magari fine ottobre, inizio novembre, periodo di Halloween, sempre quel periodo per far uscire gli horror, soprattutto in America. E niente ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se questo trailer vi è piaciuto, a me non ha fatto cambiare tantissimo idea, sono curioso per la storia, ovviamente la qualità non è chissà che, si vede da molte scene registrate in casa, che sembravano davvero dei video, delle web series trovate su YouTube, però vabbè, possiamo anche capirlo, possiamo capire che film è, tenete in mente questo dettaglio, però la mia curiosità non è cambiata, felice di aver visto per quel secondo la bocca di Winnie the Poe muoversi, quindi non saranno delle maschere semplicemente, e niente, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi ricordo che in descrizione trovate i link dei miei social, Instagram, Twitter e TikTok, trovate anche il link di Pampling, codice del pensiero 4, e vi ricordo che avrete un gratta e vinci con premio assicurato dentro ogni ordine, fino ad esaurimento scorte, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao! Ciao!